Merita Business Podcast, puntata numero 9. Co-working possiamo definirlo un nuovo modo di concepire non solo gli spazi di lavoro, ma anche in un certo senso le dinamiche stesse del lavoro e dei rapporti lavorativi. Benvenuti, benvenuti, benvenuti. Io sono Giorgio Minguzzi e questo è Merita Business Podcast, il podcast in cui scopriamo come usare internet per far crescere il nostro business. Vuoi lavorare da qualsiasi computer come se fosse il tuo? Con Safety Cloud Virtual Desktop puoi lavorare comodamente con le tue applicazioni, i tuoi dati e il tuo desktop su ogni dispositivo, anche mobile. Visita safetycloud.it slash Merita per provare Safety Cloud ed avere così diritto allo sconto esclusivo riservato ai follower di questo podcast. Eccoci qua, io sono Giorgio Minguzzi e oggi sono davvero contento di avere come ospite di questa puntata Elena Capellini per affrontare un argomento davvero interessante. Oggi parliamo infatti di co-working. Per chi non conoscesse Elena, Elena è una consulente che si occupa di email design, aiuta infatti i clienti a strutturare e a sfruttare le email e la comunicazione via email per fare più fatturato. Non è una cosa semplice, è una cosa molto più articolata di quello che si pensa e forse sarebbe bello fare una puntata a parte proprio su quello. Ma l'argomento di oggi è il co-working perché Elena è co-founder di Dynamo Coworking, uno spazio di co-working situato a Cesena che sta diventando il punto di riferimento dei professionisti in Romagna. Elena, benvenuta su Merita. Ciao a tutti, ciao Giorgio. Grazie, grazie perché sono davvero entusiasta per l'opportunità che mi stai dando di parlare di co-working perché è un tema che mi sta davvero a cuore. Quindi grazie. No, grazie a te Dynamo è una struttura stupenda dove mi è capitato di passare del tempo, di lavorare, quindi sicuramente è uno spazio molto molto interessante. Ma forse chi ci ascolta non sa ancora che cos'è il co-working, quindi forse è bene partire dalla domanda più classica, cioè cosa è il co-working? Così tutti sono allineati e riescono a capire di cosa stiamo parlando. Dunque, il co-working possiamo definirlo un nuovo modo di concepire non solo gli spazi di lavoro, ma anche in un certo senso le dinamiche stesse del lavoro e dei rapporti lavorativi. È abbastanza evidente come il mondo del lavoro stia cambiando sempre più velocemente e come ogni cambiamento questo si porta dietro tanti problemi, ma io credo che molti di questi cambiamenti possono essere visti anche come un'opportunità per cambiare meglio. Certo, certo. Per un motivo o per un altro sono sempre di più le persone, ma almeno mi rendo conto, che decidono di lavorare in modo indipendente o come freelance o come consulenti, oppure magari hanno un'idea di start-up e quindi avviano dei propri progetti imprenditoriali. e sempre più persone, fortunatamente, danno maggiore valore alla possibilità di concentrarsi su quello che si sa fare meglio e quello che appaga maggiormente, avere totale libertà nelle proprie scelte lavorative e su come investire il proprio tempo. Diciamo che si sta delineando un po' un approccio differente al modo di fare impresa. e anche al rapporto tra le persone coinvolte in un progetto. Internet ha reso possibili tante cose e ha smontato pezzo per pezzo alcune delle nostre abitudini, quindi è abbastanza normale. Assolutamente, infatti al giorno d'oggi è anche, grazie anche a internet, è relativamente semplice avviare progetti o comunque più semplice rispetto a qualche anno fa, che magari un progetto poteva richiedere grandi investimenti di soldi, di tempo o di personale. Oggi invece si riesce a fare magari con piccoli team, oppure addirittura da soli chiedendo aiuto a professionisti specializzati che risolvono un problema particolare. Quindi, insomma, stanno cambiando davvero tante cose e ovviamente tutti questi cambiamenti chiedono un nuovo modo di lavorare da parte dei professionisti, quindi esigenze nuove dove poter svolgere il proprio lavoro. Certo. O dove portare avanti i propri progetti. Quindi diciamo che il concetto di Dynamo e più in generale del co-working è disegnato attorno a queste nuove esigenze. Ecco, tu parli di professionisti, ma accettate solo freelance e lavoratori autonomi oppure all'interno del co-working possono trovarsi anche i lavoratori di aziende, aziende magari vecchio stile, del localizzati. Accettiamo tutti, però diciamo che tipicamente il co-working come modello è particolarmente adatto a liberi professionisti, consulenti o a nuovi imprenditori che magari stanno facendo partire un loro progetto. Diciamo che nello specifico Dynamo vuole essere un punto di ritrovo per i lavoratori indipendenti che lavorano negli ambiti della creatività e delle nuove tecnologie. vuole essere un luogo dove potersi confrontare, chiedere aiuto, formarsi, crescere, insomma vuole essere un luogo di confronto. Ma proprio perché crediamo che la diversità sia un valore non escludiamo nessuno a priori. Anche se ovviamente ci sono dei requisiti minimi e delle regole comuni che tutti devono accettare e rispettare per poter lavorare in uno spazio condiviso. Come dicevi tu, un altro utente tipico del co-working è quello che si definisce remote worker. In pratica professionisti assunti da aziende internazionali che lasciano al dipendente la possibilità di svolgere il proprio lavoro dal luogo che preferiscono. Perché è un po' fuori da questa cosa può sembrare un attimino strano e in più ci sono dei lavori per i quali questo non è possibile. Ma sempre più aziende stanno adottando questo tipo di rapporto un po' per poter allargare la propria possibilità di attrarre i maggiori talenti. E un po' o anche per poter raggiungere le persone più qualificate e adatte a una specifica mansione. Per esempio, proprio uno dei nostri primi co-worker è un ragazzo norvegese che lavora come sviluppatore per un'azienda svedese e lo fa da lì qua. No, no, guarda, questa è una cosa che mi fa sorridere perché se penso che ho conosciuto aziende dove i dipendenti dovevano essere assunti assolutamente in un raggio di 30 km perché poi così facevano più fatica ad andare via perché erano comodi, no? Questo è l'esatto contrario. Poi ti dico, adesso io quando lavoro da casa ho mille distrazioni e mille tentazioni per cui è sicuramente più interessante lavorare in un contesto dove le altre persone stanno portando avanti cose molto belle e quindi c'è una sorta di contaminazione, può essere sicuramente utile. Sì, è sicuramente più stimolante. Certo, però a volte io mi dico, beh, però mi piacerebbe avere la privacy della mia scrivania, del mio ufficio, avere il mio ufficio, non dico arredato come voglio io però almeno dove ci posso mettere il quadro che voglio io. Le persone che vi chiedono, diciamo, un affitto di scrivanie in una sorta di open space, in un posto qualsiasi, un po' nomadiche ci sono e l'abbiamo capito, ma ci sono anche quelle che chiedono l'ufficio da sole nel co-working? Sì, noi abbiamo diverse tipologie di spazio, c'è l'open space che è la vera e propria area di co-working dove puoi prendere la tua postazione, una zona centrale più rilassata dove le persone tipicamente chiacchierano, mangiano assieme, possono rispondere al telefono, bersi un tè, un caffè. Poi abbiamo altri spazi separati, c'è la meeting room dove i professionisti possono accogliere i loro clienti o un team di lavoro può riunirsi per discutere del progetto o per portare avanti un'idea in una forma con un po' più di privacy che tra l'altro hai usato anche tu. È vero, è vero, è vero. È una saletta dove ci si può raccogliere e avere un po' di privacy e poter portare con tranquillità avanti il progetto. Però diciamo che l'open space è la tipologia di spazio più comune per il co-working perché il vero vantaggio sta nell'interazione con le persone, nell'apertura e c'è anche un aspetto particolarmente motivante che hai accennato tu prima che è quello di essere costantemente immerso in un ambiente dove altre persone, come te, sono concentrate e si stanno dando da fare per portare avanti i propri progetti. E spesso il problema più grande per i libri professionisti o per i freelance, soprattutto all'inizio, è proprio l'isolamento. Quindi diciamo che in un certo senso prendere un ufficio chiuso, a mio avviso vorrebbe dire in qualche modo isolarsi o comunque perdere un po' quella che è l'anima e i vantaggi del co-working. Però ci sono persone che lo chiedono e noi diciamo che cerchiamo di incentivare l'open space e l'area di co-working proprio per questi motivi qui. Certo, questa è una bella opportunità per chi comunque comincia perché a volte hai la sensazione di dire va bene io vado avanti per la mia strada ma gli altri cosa fanno? Qual è il mercato in realtà che gira intorno a me? E quante cose posso imparare? Perché il mio vicino di scrivania magari sta facendo una roba interessante e io la scopro quasi casualmente, dall'altra parte il co-working nell'esperienza che avuto io dà un senso di libertà totale che è una cosa che piace molto al freelance o al professionista, cioè se no faceva il dipendente al catasto comunale, però non è detto che magari uno che vuole lavorare al catasto comunale non voglia farlo da luoghi remoti e interessanti. Ma io Dinamo l'ho vista e mi è piaciuto come spazio, come location, è molto interessante ma quando è che è nata e come mai ti sei buttata in questa avventura del co-working? Allora, Dinamo è nata ufficialmente a maggio del 2015, anche se in realtà è un progetto in cantiere da molto più tempo. Sia io che Emanuele, che è la persona che con me gestisce Dinamo, abbiamo lavorato all'estero all'interno di spazi di co-working e quando siamo tornati l'isolamento e allo stesso tempo le distrazioni che si hanno lavorando da casa erano diventate davvero pesanti, anche perché cercavamo uno spazio dove poter ritrovare quelle dinamiche a cui ormai eravamo abituati. Così ci siamo guardati un po' attorno, però non abbiamo trovato nulla di simile a quello vissuto e visto all'estero. Certo. Così dopo un po' di ricerca abbiamo pensato che sarebbe valsa la pena provare e così l'abbiamo fatto. Avete fatto bene. Sì, anche perché sono davvero convinta che la cosa peggiore per un lavoratore indipendente sia proprio l'isolamento. Anche perché senza un confronto con gli altri, uno magari non ci pensa, ma in realtà davvero senza un confronto con gli altri blocchi la tua crescita professionale ed è davvero brutto per un professionista non poter continuamente migliorarsi. In più lavorare in casa in modo produttivo è veramente dura, soprattutto doverlo fare per lunghi periodi, mentre invece avere un luogo dove si può pensare tranquillamente, senza distrazioni, fa davvero un sacco di differenza. Io ricordo quando ero negli Stati Uniti che c'era il marito di una signora che conoscevo che lavorava per la 3M e da casa. Allora si era fatto il suo ufficio in una stanza a fianco, ma non entrava stando in casa, cioè lui usciva dalla porta e rientrava in questo ufficio in giacca e cravatta e diceva se io non faccio così io non lavoro e non produco. È vero, è vero, assolutamente. Perché se no sto in pigiama tutto il giorno, sto in tuta, vivacchio e poi non sono nel giusto mood per poter produrre. Tra l'altro è il primo errore che fa il freelance, dice ok bello, la partita arriva, lavoro in pigiama oppure mi vesto solo a metà, tanto devo fare una chiamata sotto non mi vedono, però in realtà questa cosa a lungo andare non è un bene, anzi è un male. Questo è sicuro. Ci fermiamo un attimo e diamo spazio agli sponsor, così dopo ritorniamo a parlare di Dynamo. Quando si romperà il PC del capo? Quando si accorgerà che glielo hanno rubato dalla macchina? Semplice, sempre nel momento meno opportuno, mentre sta scrivendo una relazione importante, mentre sta buttando giù il preventivo del secolo. Oggi i PC come i server possono essere messi in alta affidabilità con il virtual desktop di Safety Cloud. Con Safety Cloud il tuo capo potrà accedere al suo desktop con le sue icone i suoi software, esattamente come lo ha lasciato da un qualsiasi PC o da un qualunque dispositivo mobile, Windows, Apple e anche Android. Con Safety Cloud il tuo capo tornerà a lavorare in pochissimi istanti senza accorgersi della differenza rispetto al suo PC. Ci troverà Microsoft Office, le sue applicazioni preferite, l'IRP, software dedicati al suo lavoro, persino il CAD potrà anche stampare da qualsiasi stampante senza dover installare alcun driver. Cosa aspetti a provare direttamente la demo online fatta apposta per gli ascoltatori del podcast? Vai su www.safetycloud.it slash merita www.safetycloud.it slash merita per provare fin da ora la tranquillità del virtual desktop e per accedere allo sconto riservato agli ascoltatori. Vuoi provare il virtual desktop? Vai su www.safetycloud.it slash merita e inizia la tua demo con un click. Rieccoci qua, parliamo ancora di co-working. È interessante capire come si strutturano le dinamiche all'interno del co-working. Il co-working si dà un'identità diventando tematico, per esempio il co-working di chi lavora nell'IT oppure il co-working di chi è un architetto, nel senso facendo squadra con colleghi oppure è libero, cioè per sua natura diciamo casuale. Diciamo che il co-working per sua natura raccoglie un po' quelle professionalità che possono facilmente lavorare con un computer portatile o poco più. Difficilmente troverai un sarto o un fabbro che ti chiede una portazione perché ovviamente hanno esigenze molto diverse. Esistono co-working riservati per esempio a solo startup tecnologiche che di fatto sono più incubatori o acceleratori, ma diciamo che anche senza voler per forza dare un'identità, la tipologia di persone che ne faranno parte saranno sempre più o meno quelle, ovvero le persone che operano nel settore della creatività e delle nuove tecnologie. Dinamo vuole nel tempo sviluppare un network di professionisti indipendenti e fornire a questo network il miglior contesto possibile dove questi possono aiutarsi a vicenda e supportarsi. Questo è un bel punto però perché una resistenza, magari io sono lì a fianco, telefono, parlo, chiamo, ricevo clienti, ho il mio concorrente che fa il mio stesso lavoro. Quindi nel caso che ci siano persone che fanno la stessa professione, che magari sono due freelance concorrenti, come si strutturano i rapporti all'interno del co-working? Ecco, purtroppo abbiamo notato che spesso le persone nel nostro territorio temono questo tipo di situazione. Siamo convinti che questi timori siano solo i resti di un modo passato, chiuso e un po' ottuso di concepire il proprio lavoro. Sai, quello che guarda solo al proprio orticello e tutto quello che è fuori è nemico e da evitare o da sconfiggere addirittura. Si fa spesso l'esempio della torta, dove se tutte le fette vanno al mio competitor allora significa che non rimarrà più per me. La realtà invece è molto più complessa e sicuramente non è un sistema chiuso né tanto meno torta. Avere di fianco qualcuno che fa il mio stesso lavoro può essere alti un grande vantaggio. Di questo ne siamo assolutamente convinti, anche perché l'abbiamo vissuto in prima persona sulla nostra pelle. Bisogna iniziare a capire che il professionista che ti siede di fianco è una grande risorsa. Come lo sai tu per lui? Faccio un esempio. Nel momento in cui hai più richieste di quelle che riesci a smaltire come lavoro, può essere di aiuto avere un appoggio per non mandare via il cliente e lo stesso vale per lui. Questo è un grande problema del libro professionista perché accetta molto più lavoro di quello che riesce a fare perché poi le giornate sono uguali per tutti e poi cominciano le frizioni e gli attriti con i clienti. Esattamente e già questa cosa qui può essere un buon modo per mitigare l'andamento a montagna russa del tipo lavori che chiamassi perché hai un sacco di clienti e poi finiti i tuoi progetti hai un periodo di secca totale perché mentre lavoravi veramente operativamente invece non hai lavorato nella ricerca del cliente. Insomma, tra l'altro questo è un problema tipico dei lavoratori indipendenti soprattutto alle prime armi. Quindi insomma questo tipo di collaborazione può essere molto molto utile. Non solo, lavorare a stretto contatto con qualcuno che ha competenze simili alle tue può permetterti di specializzarti e decisamente la specializzazione paga, paga per diversi motivi. Specializzarsi in un aspetto particolare del proprio lavoro aumenta notevolmente il tuo valore professionale che permette di crescere più rapidamente e di poter fornire servizi di lavoro più alto per chi ti ingaggia. Esatto, esatto. Banalmente facendo un esempio, se gestisci un hotel e vuoi promuoverlo online, è più probabile che ti affiderai ad un esperto di marketing o ad un esperto di marketing specializzato nel settore alberghiero. Questo è un esempio banale però se io dovessi scegliere andrei da quell'esperto nel settore alberghiero. Certo, certo. Ovviamente trovarsi in un contesto di questo tipo è utile anche nel momento in cui il cliente ha necessità differenti e tu puoi chiedere al tuo vicino di scrivania di aiutarti e di collaborare. Quindi, insomma, noi vediamo solo tantissimi vantaggi nell'avere il vicino di scrivania che fa il nostro stesso lavoro o comunque molto simile. Quindi non ne vediamo i vantaggi. È difficile fare il lavoro allo stesso modo, anche se due fanno l'architetto, poi alla fine le case che fanno sono diverse, però c'è sempre la paura che ci siano atteggiamenti predatori. Secondo me sono un po' ingiustificato, o meglio, hai detto molto bene all'inizio, sono figlie di una concezione diversa in cui il lavoro magari prima non era così, tra virgolette, pubblico. Oggi fai una ricerca su internet, io faccio presto a capire quali sono i tuoi clienti, chi sei, ecco non è così difficile. Per cui tutti questi timori chiaramente sono destinati a scomparire, ma ci vorrà un po' di tempo. Questo mi fa però approfittare per farti una domanda che è un po' diversa perché ho capito bene l'aspetto, diciamo, dei professionisti e dei vantaggi dei professionisti che vengono al co-working, ma il co-working non è solo uno spazio per loro. Mi sembra di capire che sia uno spazio anche per i non professionisti o per altre figure che comunque lo continuano a frequentare, o mi sbaglio? No, non ti sbagli. Infatti Dinamo è nato proprio con quell'intenzione lì, cioè quello di essere un punto di incontro per la community di lavoratori indipendenti, nuovi imprenditori o per chiunque abbia un progetto. Diciamo che spesso la condivisione dei costi è la prima cosa la quale si pensa quando si viene a conoscenza del co-working, ma in realtà forse è l'ultimo dei vantaggi. Credere che Dinamo sia solo condivisione dei costi vuol dire non capire il vero vantaggio del co-working. Essere all'interno di un ambiente che ti ha la possibilità di lavorare al meglio per te stesso e allo stesso tempo esserci fondato da persone che fanno la stessa cosa, vivendo un po' il lavoro non come un obbligo, ma come qualcosa che permette di esprimersi e di realizzarsi, fa davvero moltissima differenza. Per rispondere un po' meglio alla tua domanda, Dinamo organizza eventi e corsi in linea con gli interessi dei co-worker, ma non solo per loro, gli eventi sono rivolti a tutte le persone che vogliono avvicinarsi ai temi trattati. Faccio un esempio pratico, ogni primo giovedì del mese, Dinamo ospita il Wordpress Romagna Meetup, un incontro dove chiunque sia interessato a Wordpress, che ha una piattaforma di gestione dei contenuti, può partecipare, conoscere altre persone interessate a Wordpress e imparare qualcosa di nuovo, oppure addirittura anche condividere una propria esperienza e insegnare qualcosa agli altri. Quindi insomma diciamo che non è uno spazio riservato a chi ci lavora, ma è uno spazio che cerca di raccogliere le persone e di farle crescere, di parlare di argomenti interessanti. Guarda, è interessante perché, almeno nell'esperienza che ho fatto io, il co-working diventa veramente un posto dove si fa cultura di impresa, anche se fosse solo per imprenditori da soli o liberi professionisti, però fa cultura e fa cultura legata ai tempi di oggi. Quindi io vado a trovare lì persone che sono come me. E questo è il primo vantaggio che sperimento andando a frequentare un co-working, cioè non trovo gente nel medioevo che è ancora legata a retaggi storici di un lavoro che ormai non esiste più, trovo delle persone che la pensano esattamente come me. E quindi questo, tra l'altro, la penso talmente come me che io sono un po' interessato e ho visto che a me che piace viaggiare tantissimo, il co-working può essere veramente uno strumento, come posso dire, utile per poter viaggiare, per poter viaggiare tanto e non interrompere la mia produttività. Magari ci spieghi meglio come si può fare a viaggiare, a continuare a lavorare nei co-working? Certo, sì, il fenomeno dei lavoratori nomadi è in continuo aumento, proprio perché sempre più spesso si può svolgere il proprio lavoro semplicemente con il proprio computer e una buona connessione internet, quindi non si hanno più vincoli di nessun tipo. oltretutto poter entrare, quando sei in viaggio, poter entrare in uno spazio di co-working in una nuova città, secondo me è un'ottima scelta, soprattutto se hai intenzione di stare lì per qualche tempo. Anche noi spesso viaggiamo in questo modo, dove in realtà... È un modo per conoscere le città, cioè un po' da abitanti e non da semplici turisti che si fanno portare in giro a vedere i monumenti, un po' come... Esattamente, è proprio così, perché ti permette di conoscere meglio i posti che visiti, di conoscere le persone che ci vivono, di venire a conoscenza di nuovi approcci al lavoro, di nuovi strumenti e, perché no, nuova possibilità di collaborazione, perché alla fine succede anche quello. No, no, è interessante, perché questo apre ancora di più gli spazi alla possibilità di creare qualcosa di nuovo contaminandosi non solo a Cesena e Romagna, non solo in Italia, ma veramente in Europa o nel mondo. Quindi chi ha una scrivania a Dinamo può approfittare di queste possibilità e, diciamo, lavorare in tutto il mondo? Sì, noi siamo membri del progetto Coworking Visa, che è un respiro mondiale, alla rete italiana Cowoo. In pratica, chi ha la membership Dinamo può sfruttare giornate in altri spazi di Coworking sparsi per il mondo. Il limite di giornate dipende un po' dal Coworking stesso, di solito sono tre giornate. Se qualcuno vuol dare una sbirciatina, il sito è CoworkingVisamap.com. Certo, poi li metteremo nelle note del sito, sicuramente. Sì, sì, sì. Così una persona si può rendere conto davvero di quante realtà esistono e di come sia facile spostarsi e potersi appoggiare per lavorare magari anche solo una mezza giornata o una giornata all'interno del proprio viaggio. Noi l'abbiamo sfruttato ed è davvero interessante un'esperienza che secondo me l'ha fatta. No, un modo curioso di viaggiare, un modo sicuramente più in linea con i tempi e che ti permette di non smettere di produrre, ecco, di restare produttivo anche se visiti una bella città, una bella capitale europea. Bene, siamo arrivati al termine anche di questa puntata, ma prima di lasciarci volevo chiederti dove possono trovarti online le persone che ascoltano Merita Business Podcast. Ci lasci i tuoi riferimenti in modo che se qualcuno ha delle domande sul co-working o se ha voglia di venire a fare un salto a Dynamo ti può contattare. Certo, il sito di Dynamo è dynamocowork.com, se ci cercate su Facebook potete cercare Dynamo Coworking Susena e basta, è lì, trovate tutti i contatti. Io sono Elena e scrivete, chiedete tutto quello che volete. Bene Elena, grazie mille, grazie mille per questo approfondimento relativo al co-working. Alla prossima, grazie. Grazie a te Giorgio, grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ottimo, prima di passare alla conclusione mi preme ricordarti di quanto sia importante per Merita Business Podcast ricevere le recensioni su iTunes e Stitcher. Per lasciare una recensione bastano pochi istanti e tutte le istruzioni sono su www.merita.biz.love www.merita.biz.love Bene, siamo arrivati al termine anche di questa puntata in cui abbiamo parlato di come cambia il mondo del lavoro approfondendo il tema del co-working. Grazie per essere stati con me, spero sia stato un episodio ricco di spunti utili. Se avete voglia di farmi sapere la vostra opinione, fare una domanda sull'argomento di oggi o lasciare semplicemente un saluto veloce, potete usare i commenti alla pagina www.merita.biz.love www.merita.biz.love è scritto il numero, il numero dell'episodio di oggi. Tutti gli appunti e i link citati durante lo show sono già lì ad aspettarti. Bene, è davvero tutto per oggi, io sono Giorgio Minguzzi e questo è Merita Business Podcast. Ciao!